Recensione di Chuck Rock per Sega Master System Se siete interessati alle recensioni di videogiochi per Sega Master System sul mio canale trovate una playlist dedicata con i titoli inseriti in ordine alfabetico Chuck Rock è molto arrabbiato perché la sua meravigliosa moglie Ophelia è stata rapita dal malvagio Gary Gritter è quindi pronto a scagliare la sua furia contro ogni essere vivente che cercherà di impedirgli di recuperare e salvare la sua amatissima moglie Chuck Rock è un videogioco di piattaforme per un solo giocatore originario del mondo Amiga, cioè è stato prima programmato per Amiga e poi convertito per diversi sistemi tra cui il mitico Sega Master System Il gioco è composto da 5 schemi e 5 boss che però si dividono in alcune fasi Ho qui davanti a me il libretto di istruzioni quindi posso essere preciso Il livello 1 è composto da 5 zone, il livello 2 da 4 e tutti gli altri livelli, quindi il terzo, il quarto e il quinto sono composti da 3 zone I controlli sono implementati nel seguente modo un tasto per saltare e un altro per eseguire gli attacchi Se si compie un attacco mentre si salta si sferrerà un calcio Se invece si compie un attacco mentre si è a terra Chuck Rock utilizzerà la sua pancia cioè scaglia proprio delle panciate per colpire i nemici Una delle caratteristiche principali di Chuck Rock risiede proprio nel carisma del suo personaggio Ipotizzo che i programmatori possono aver fatto un ragionamento di questo tipo Forse i videogiocatori sono stanchi di impersonare barbari troppo muscolosi supereroi pulitini dai poteri sconfinati e ragazze con un fisico talmente tonico da fare invidia alla più bella fotomodella esistente sulla faccia del pianeta Terra Ecco che allora nasce Chuck Rock un cavernicolo seminudo e obeso talmente rude che sembrerebbe mancare soltanto il rutto libero per completare l'opera che elimina i nemici con delle panciate Questa scelta sarà stata produttiva? Lo vedremo tra poco ma prima completiamo le informazioni generali riguardanti il gameplay quindi abbiamo a che fare con un videogioco di piattaforme a scorrimento ci sono due tasti, uno per saltare ed uno per eseguire gli attacchi e il carisma del protagonista è una caratteristica piuttosto importante Per completare le informazioni generali sul gameplay è doveroso menzionare i massi Chuck Rock infatti può trasportare e lanciare dei massi che hanno diverse funzioni e cercherò di riassumervele adesso Possono essere scagliati contro i nemici per eliminarli Possono essere utilizzati come rialzo per raggiungere qualche piattaforma posta un pochino più in alto Possono proteggere il capo di Chuck Rock nel caso dall'alto cada qualcosa Possono essere lanciati su rovi oppure su un terreno in cui si sprofonda come per esempio il fango o la lava per permetterci di avanzare Ed infine possono essere lanciati su una pseudocatapulta praticamente un coccodrillo noi ci posizioniamo sulla testa o sulla coda e poi lanciamo il masso dalla parte opposta per poi prendere il salto Come avrete capito questi massi sono importanti perché ampliano il gameplay Prima di passare all'analisi dettagliata vorrei sottolineare che oltre al carisma del protagonista tutto il gioco è stato disegnato in un modo simpatico, divertente e basti vedere le espressioni che assumono i nemici quando vengono colpiti Ci siamo ragazzi! L'analisi approfondita, il momento della verità Si incomincia dalla grafica Come potete vedere purtroppo in questa versione per Sega Master System di Chuck Rock tutti gli sfondi sono stati eliminati e sostituiti dal colore nero una scelta che non ho apprezzato e che non condivido se proprio i programmatori avevano utilizzato tutto lo spazio nella cartuccia potevano almeno scegliere dei colori diversi per esempio in questo livello il nero può anche starci ma nel primo almeno l'azzurro almeno non sempre il nero è una cosa che non capisco, non ho apprezzato e per me è un grave difetto e poi un minimo di disegno sullo sfondo che ne so, per esempio nel primo schema anche solo tutto lo sfondo azzurro con qualche nuvoletta guardate, bastava questo per ribaltare la situazione invece hanno optato per lasciare tutti gli sfondi neri e ragazzi questa è la scelta che hanno fatto e ribadisco non l'apprezzo, non mi piace sembra quasi che il gioco sia sempre ambientato all'interno di una caverna oppure di notte però è brutto ecco, è Chuck Rock non stiamo parlando di Ghost and Goblin di Splatter o di Castlevania quindi è una scelta sbagliata dal mio punto di vista tutto il resto invece è di qualità come potete vedere il dettaglio delle piattaforme in primo piano è assolutamente apprezzabile i nemici possono avere anche delle buone dimensioni e le animazioni sono sempre molto carine e sempre con questo fare simpatico con questo senso dell'umorismo i disegni sono praticamente perfetti però ragazzi questo fatto che manca lo sfondo si nota ed è piuttosto pesante cioè è impattante questa cosa secondo il mio punto di vista il sonoro ragazzi il sonoro è ancora peggio della grafica perché hanno deciso di non far ascoltare nessuna musica mentre si gioca ci sono soltanto gli effetti sonori però vedete anche in questo caso anche ipotizzando che i programmatori avessero finito lo spazio a loro disposizione comunque durante la schermata del titolo si ascolta la musica di Chuck Rock il tema principale che è stato convertito piuttosto bene considerando le capacità del chip audio del Sega Master System ma allora scusate potevano farci ascoltare questa musica durante i livelli certo è una sola quindi dopo qualche partita poteva anche annoiare vabbè non so prima di ogni livello si poteva far scegliere al giocatore se ascoltare soltanto gli effetti sonori oppure se ascoltare gli effetti sonori accompagnati con la musica della schermata del titolo e sarebbe già stata un'altra cosa invece così soltanto gli effetti sonori è una scelta inusuale per un Sega Master System queste cose erano più comuni sui vecchi giochi per home computer ma su console è raro comunque anche in questo caso dobbiamo soltanto prendere atto che questa è stata la scelta dei programmatori scelta che anche in questo caso non condivido anche perché poi se la musica come vi ho detto è stata riprodotta in un modo stupendo lo stesso non si può dire per gli effetti sonori alcuni sono gradevoli altri invece sono fastidiosi e poi manca la frase che la frase o il verso la parola insomma che dice Chuck Rock nelle altre versioni ogni volta che inizia un livello cioè dice onga bonga sembra una stupidata però allora già mi togli la musica almeno mettetemi degli effetti sonori stupefacenti il Sega Master System ha qualche gioco con delle sintesi vocali quindi secondo me era possibile inserire questo onga bonga ma non hanno fatto neanche questo la giocabilità dunque nella recensione di Chuck Rock per Sega Mega Drive dico che un famoso importante sito dedicato le console Sega aveva valutato la versione per Mega Drive con un 6 e io non ero d'accordo e in quella recensione ho spiegato il perché quello stesso sito valuta questa versione per Master System con un 3 e no 3 è veramente un insulto anche in questo caso non sono d'accordo e anche in questo caso cercherò di spiegarvi il motivo sicuramente come vi ho già detto Chuck Rock per Master System ha dei difetti evidenti ne ho già parlato per quanto riguarda la grafica e il sonoro però mediamente si tende anche a dire che Chuck Rock in generale tutte le versioni di Chuck Rock non solo questa per Master System insomma avrebbero uno stile un po' troppo occidentale e quindi in poche parole non è il classico platform giapponese ma anzi Chuck Rock in confronto a questi videogiochi di piattaforme giapponesi avrebbe un level design più semplice più ingenuo quasi a parte che questo secondo me non è detto che sia per forza una caratteristica negativa però obiettivamente anche io vi dirò che il level design di Chuck Rock non è per nulla complesso i primi livelli sono proprio lineari poi avanzando nel gioco c'è sicuramente un aumento della complessità quindi un design non complesso non molto elaborato ma non per questo poco divertente di sicuro anche io ve lo dico non abbiamo a che fare con un Super Mario World ok ma le situazioni proposte al giocatore nella loro semplicità a me sono sembrate divertenti lo scrolling lo scrolling veloce e fluido aiuta a mantenere attivo l'interesse del giocatore i combattimenti contro i boss sono ben congegnati l'utilizzo dei massi e i livelli subacquei aggiungono qualcosa in più che fa sempre piacere quindi riassumendo il concept di Chuck Rock il suo gameplay non è sicuramente complesso o molto elaborato ma non per questo è poco divertente io vi dirò che mi sono divertito anche con questa versione per Master System devo però sottolineare che questa versione per Master System ha qualcosina in meno per quanto riguarda il divertimento rispetto alla versione per Mega Drive perché ho notato un certo ritardo quando si utilizza il colpo con la pancia cioè dal momento in cui si preme il tasto al momento in cui la pancia effettivamente può danneggiare il nemico passa un pochino di tempo guardate è un microsecondo cioè è una cosa incredibilmente piccola però giocando a volte lo ho notato e si richiede di anticipare un pochino la panciata rispetto alla versione per Mega Drive niente di grave però dal mio punto di vista questo rende la versione per Mega Drive un pochino più divertente la longevità non è un punto forte di Chuck Rock 5 schemi suddivisi in alcuni livelli non è tantissimo e comunque il mio long play dura qualcosa più di mezz'oretta però vi dirò se dal punto di vista della giocabilità la versione per Master System è un pochino inferiore alla versione per Mega Drive dal punto di vista della longevità vince la versione per Master System perché il gioco è un pochino più difficile le mie considerazioni finali Chuck Rock per Master System non è certo un capolavoro però ritengo che sia un gioco fin troppo sottovalutato vedere voti come 3 4 mi sembrano davvero esagerati in negativo certo la grafica delude quando si vede che non c'è lo sfondo il sonoro delude forse ancora di più ma i programmatori hanno fatto una scelta secondo me hanno deciso di mantenere praticamente quasi intatto tutto il gioco a scapito probabilmente della resa grafica e della resa sonora vi faccio degli esempi se noi prendiamo Robocod o Fire and Dice o Wonder Boy in Monster World sono tutti giochi per Master System che hanno una grafica incredibilmente bella ma però a fronte di questa grafica fantastica poi i programmatori hanno dovuto eseguire dei tagli per farci stare il gioco nella cartuccia quindi è vero hanno una grafica fantastica però poi hanno meno livelli o manca qualche caratteristica e il gioco appare tagliato in questo caso invece il gioco c'è quasi sottolineo quasi tutto cioè più o meno è come giocare la versione per Mega Drive non è una cosa scontata perché come vi ho detto altri titoli hanno scelto un'altra filosofia quello di avere una grafica e un sonoro incredibile però poi compiere dettagli altri giochi ancora hanno seguito un'ulteriore diversa filosofia pensiamo ai Sonic o ai giochi di Topolino che rispetto alla versione per Mega Drive sono proprio dei giochi diversi qui invece abbiamo più o meno lo stesso gioco che abbiamo visto su Mega Drive però in tutta sincerità avrei preferito per esempio avere meno bonus che danno punti da recuperare ma avere sfondi migliori quindi capisco che probabilmente la filosofia di programmazione è stata quella di inserire tutto il gioco ma anche con questa filosofia potevano essere implementate scelte diverse che secondo me avrebbero migliorato il prodotto al di là di questo Chuck Rock rimane un videogioco di piattaforme con una longevità non eccelsa ma una giocabilità sufficiente non è un capolavoro il design dei livelli in molti casi forse è troppo semplice però è divertente e fa ridere dai prendere a panciate gli avversari vedere che fanno quelle espressioni assurde notare dinosauri in mutande o cose così a me è piaciuto quindi il mio voto sarà comunque positivo non è un capolavoro quindi non sarà sicuramente un gioco da 8 o da 9 ma secondo me la sufficienza viene superata vi ringrazio per la visione per la visione per la visione per la visione per la visione